Se si desidera aggiungere un profilo orario per le vacanze o i periodi di manutenzione in ePassan Manager, si inizia facendo clic sul pulsante Utenti e profili di accesso. A questo punto, utilizzare l'opzione a discesa sul lato sinistro per selezionare i profili temporali e poi Manutenzione ferie. Cliccate su Aggiungi un periodo e inserite un nome per il nuovo Time Profile. Ora impostate gli intervalli di date per il profilo orario, dall'inizio alla fine. Quindi selezionare le porte o i piani a cui applicare questo Time Profile. Infine fare clic su Salva. Il nuovo profilo orario dovrebbe essere visualizzato sul lato sinistro.